quella alle mie spalle è uno dei nuovi 98 pollici della nuova gamma di tv tcl uno dei formati extra large a cui ci siamo appena abituati e questo è il nuovo 115 pollici e sì cari miei perché tcl ha deciso di andare oltre il 98 pollici che è stato una sorpresa anche per la stessa azienda e che ha portato l'anno scorso a moltiplicare il numero di serie disponibili in questo formato adesso ha lanciato anche il 115 pollici quindi siamo ancora più grande lo vedete qui alle mie spalle stiamo parlando di un tv che ha una base di oltre due metri e mezzo quindi siamo veramente ormai a livelli della videoproiezione con quello che è a tutti gli effetti il più grande tv oggi presente sul mercato in italia si tratta di un tv della serie x 95 che avevamo già conosciuto allo scorso anno perché era il top tecnologico a livello di tv per tcl e siamo quindi all'interno di questa stessa serie ora in formato più grande ma appunto non solo un tv importante per dimensioni ma anche per contenuto tecnologico si tratta infatti un tv mini led estremamente luminoso si parla addirittura di 5.000 nit di luminosità di picco se voi pensate che i format hdr sono pensati per arrivare fino a 10.000 siamo praticamente a metà strada in termini di numeri chiaramente e dovete pensare che un OLED tipico un OLED medio sul mercato arriva se va bene a 1000 e sui top di gamma arrivano magari a 1500 nit di luminosità di picco quindi si tratta di luminosità veramente importante che la rende un televisore come questo adatto anche ad ambienti molto luminosi come quello dove ci troviamo adesso per la presentazione della nuova gamma 2024 di tcl il contenuto tecnologico è anche in termini di quantità di mini led che si trovano dietro allo schermo lo schermo chiaramente essendo così ampio ha bisogno di più led per illuminarlo a dovere soprattutto in questi livelli di luminosità ma aumenta anche il numero di zone indipendenti che permettono di andare a controllare con precisione la luminosità dietro allo schermo questo tv pensate arriva addirittura a oltre 20.000 zone indipendenti di local dimming questo vuol dire che il tv è in grado di andare a controllare l'elettronominazione con dettaglio molto preciso dietro lo schermo e questo serve soprattutto per rendere i neri sempre più neri e quindi andare ad avvicinarsi a tecnologie come l'olid appunto famose per il nero perfetto su più zone dello schermo e quindi con un dettaglio maggiore del controllo della retroiluminazione rimangono poi i capisaldi del gamma tcl a cui ci abituato negli ultimi anni quindi piattaforma google tv per la parte smart tv quindi con accesso al catalogo del play store delle applicazioni e naturalmente possibilità di accedere direttamente con le app sul televisore a tutti i servizi di streaming disponibili in italia poi naturalmente si tratta appunto di un tv hdr e come consuetudine tcl offre il supporto per tutti gli standard disponibili quindi dolby vision hdr 10 plus poi naturalmente hdr 10 e anche hlg abbiamo anche finalmente su un tv premium come questo perché chiaramente con 115 pollici si parla di un tv veramente premium abbiamo finalmente un telecomando all'altezza della situazione quindi più curato nel design vedete con questa placca in alluminio sul frontale pochi tasti ben disposti e sicuramente una step up anche sul fronte del controllo del tv naturalmente abbiamo il microfono integrato per poter utilizzare l'assistente google della piattaforma google tv ma ci sono anche novità sul fronte dell'audio perché chiaramente questo è un tv pensato anche per stupire a livello cinematografico con questo formato abbiamo un impianto 6.2.2 canali dolby atmos naturalmente dove il punto 2.2 indica che abbiamo due woofer dietro lo schermo per supportare le basse frequenze e qui di spazio ce n'è per fare dei bassi come si deve più i due canali superiori altezza si chiamano per il dolby atmos per offrire un suono più a 360 gradi complessivamente il sistema audio praticamente offre fino a 120 watt di potenza audio quindi si tratta insomma comincia ad essere un impianto importante e naturalmente c'è sempre la firma onchio sul sistema audio come su altri prodotti della gamma tcl anche se un formato così grande è l'ideale soprattutto chiaramente per lo sport pensiamo ai prossimi europei di calcio le olimpiadi e soprattutto per il cinema come il resto della gamma anche questo modello da 115 pollici si presenta ideale per il gaming infatti abbiamo gli ingressi hdmi 2.1 con supporto per funzioni quali il variable refresh rate per la media free sync premium pro e più il pannello è a 144 hertz quindi non solo con soldi videogioco fino a 120 hertz con frame rate variabile ma anche per i pc da gaming per il gaming un po' più più spinto per giocare in 4k fino a 144 hertz e per chi vuole giocare ancora con tempi di risposta più ridotti ancora e frequenze di refresh ancora più alte c'è pure la modalità 240 hertz che raddoppia velocità del pannello sacrificando un po' la risoluzione verticale quindi equivalente più o meno a 1080p ma appunto con una maggiore fluidità e migliori tempi di risposta. Insieme al modello da 115 pollici il più esclusivo arriveranno finalmente in italia della serie x95 anche i modelli 98 e 85 pollici ma quest'anno debuta anche la nuova serie c85 qui vediamo l'esemplare da 98 pollici ma ci saranno anche i modelli da 85 75 e 65 pollici le caratteristiche sono molto simili a quelle del top di gamma stiamo parlando sempre di mini led con migliaia di led e migliaia di zone local dimming non sono 20.000 da come sul modello da 115 pollici e sui modelli inferiori della gamma della serie x95 ma per esempio per i 98 pollici stiamo parlando comunque sempre di più di 2.000 zone di local dimming quindi con una retroluminazione dinamica molto molto precisa per offrire neri molto profondi. Stiamo parlando sempre comunque di tv anche sempre molto luminosi non siamo sull'ordine di 5.000 nit del top di gamma stiamo parlando comunque di classe di 3.500 nit quindi qualcosa di veramente molto molto luminoso adatto soprattutto gli ambienti con molte luce come in questo caso. Le caratteristiche dicevamo per il resto sono molto simili a quelle del top di gamma abbiamo sempre google tv con tutte le funzioni relative della piattaforma smart tv di google abbiamo tutte le funzioni dedicate al gaming a cominciare dal pannello compatibile con segnali 4k fino a 144 hertz con ingressi hdmi 2.1 con funzioni come il variable refresh rate delle specifiche hdmi più l'imd freesync premium pro per l'utilizzo con i pc da gaming anche in questo caso poi abbiamo la funzione che raddoppia la frequenza di quadro del pannello portando la 240 hertz con un piccolo sacrificio sulla risoluzione verticale dell'immagine dedicata soprattutto a chi vuole spremere al massimo in termini tempi di risposta e fluidità di movimento in ambito gaming utilizzando appunto un pc da gaming l'unica sorgente che può sfruttare quelle frequenze di quadro anche in questo caso abbiamo un sistema audio firmato onkyo con più canali in particolare sui modelli più grandi abbiamo un impianto 2.2.2 quindi con due canali altezza per gli effetti dolby atmos più due swuffer mentre sui modelli più piccoli da 75 e 65 pollici e swuffer diventa solo uno ma mantiene mantengono i canali altezza stereo per gli effetti dolby atmos come per la serie x 95 anche sulla serie c85 troviamo poi il nuovo telecomando con finiture decisamente più premium e più adatte a una tv di questa fascia sotto la serie c85 che abbiamo visto si inserisce la serie c80 che aveva debutato l'anno scorso verso autunno nei negozi italiani che rimane in gamma ed è sempre i mini led questo invece un modello q led ma con local dimming si chiama c65 pro perché al di sotto c'è anche una serie c65 che vedremo fra un attimo entry level però questo è un q led con local dimming cosa che l'anno scorso non avevamo nella gamma di dcl le caratteristiche rimangono sempre più o meno simili a meno in termini di capisagli ovvero google tv per tutte le funzioni smart quindi con assistente vocale le applicazioni del play store e tutto quanto il pannello è in questo caso a 60 hertz ma appunto col beneficio di avere la retroluminazione di nanka le zone non sono tantissime perché in questo caso non parliamo di mini led ma di un led tradizionale quindi stiamo parlando di qualche decina però comunque significa avere un rapporto di contrasto migliore soprattutto una resa sul nero migliore rispetto a un q led diciamo liscio di tipo standard normale abbiamo comunque il supporto anche per i formati hdr come tutti gli altri modelli della gamma tcl si parla quindi di dolby vision hdr 10 plus hdr 10 normale e hlg la luminosità in questo caso è per il modello più luminoso sotto al 1000 nit si parla circa di 600 nit più o meno e la nuova questa serie nuova c65 pro sarà disponibile nei tagli da 75 a 65 e 55 pollici avrà comunque anche l'audio onchio con supporto pleconone sonora in dolby atmos quindi un prodotto abbastanza completo che si posiziona leggermente sopra al q led entry level ma appunto con il beneficio di avere finalmente anche il local dimming su una serie non mini led il nuovo entry level della nuova line up tcl invece la nuova serie p 75 che sarà disponibile nei tagli da 43 pollici su fino a 75 la novità riguarda il fatto che questo modello non è chiaramente un q led presidia la fascia diciamo ultra hd led normale quindi non abbiamo neanche il local dimming però comunque abbiamo sempre google tv abbiamo il pannello a 70 hertz però con la funzione di moltiplicazione della frequenza 120 hertz sacrificando un po di risoluzione verticale quindi un modello completo a livello di funzionalità grazie appunto alla piattaforma di google compreso qui abbiamo il simbolo del microfono l'assistente vocale per accedere all'assistente google della piattaforma di google e ovviamente accesso a tutti i servizi di streaming quindi per chi non vuole spendere molto ma vuole un tv comunque 4k e con tutte le funzioni smart che ci si aspetta da un tv nel 2024 questo è il forse tv che molti stanno cercando anche perché questo tv comunque supporta tutti i principali formati hdr compreso il dolby vision e l'hdr 10 plus oltre al normale hdr 10 e hlg questo invece è il nuovo 98 pollici della nuova serie c65 il nuovo entry level QLED della nuova line up di TCL per il 2024 come entry level 98 pollici nella gamma TCL rimane in gamma il P745 che ha debutato lo scorso anno che rimane il 98 pollici più economico del mercato però la serie c65 come entry level QLED va a coprire quest'anno praticamente tutti i tagli disponibili da 43 pollici su fino appunto al 98 pollici il 98 pollici ha alcune caratteristiche distintive rispetto al resto della serie c65 perché è l'unico dei modelli che ha il pannello a 144 hertz e quindi per offrire una qualità leggermente superiore soprattutto su questa dimensione di schermo rimangono inalterati diciamo i principali pilastri quindi google tv le funzioni per il gaming con wrr e amd free sync premium per il gaming con frequenza di quadro variabile rimane la compatibilità con tutti i formati hdr come abbiamo visto sul resto della gamma quindi dolby vision hdr 10 plus e i soliti hdr 10 e hlig e quindi una soluzione davvero molto completa i modelli più piccoli di dimensione rispetto al 98 pollici hanno un pannello a 60 hertz ma sempre con la funzione di moltiplicazione dei fotogrammi da 60 a 120 hertz con l'acceleratore cosa che è disponibile anche su 98 pollici per cui volendo per il gaming questo tv può andare fino a 240 hertz diminuendo leggermente la risoluzione verticale che viene dimezzata rispetto al 4k nativo come i modelli superiori che abbiamo visto precedentemente anche nel 98 pollici nella serie 65 è dotato di un sistema audio dolby atmos firmato onchio in questo caso a 2.1 canali comunque con una potenza di 60 watt che per uno schermo da 98 pollici servono per supportare appunto con un audio spettacolare quanto la grandezza delle immagini o poi naturalmente ccl non è solo televisori ccl fa anche grandi elettrodomestici qui abbiamo ad esempio la nuova serie frescina di condizionato di aria con purificatore d'aria integrato questo modello in particolare ha due sistemi di purificazione uno per introdurre aria purificata dall'esterno all'interno dell'abitazione oppure per succhiare l'aria dall'interno buttarla fuori e naturalmente purificare sempre l'ambiente poi abbiamo anche i frigoriferi abbiamo lavatrici insomma tutto il mondo del del bianco ora però è il momento di parlare di disponibilità e prezzi a nuova gamma di tv qua abbiamo fabio serafino che è sales director di cielo italia per la parte video e ci parlerai finalmente di sapere della gamma che abbiamo appena visto prezzi e disponibilità prima di tutto quando arriveranno i nuovi tv in italia allora i nuovi tv sono già in consegna sui nostri più importanti clienti a partire da maggio ci saranno già delle delle gamme distribuite come la serie c6 55 q led o la p7 55 per poi andare in consegna a giugno con la parte dei grandi schermi come il 115 pollici ecco prendiamo da 115 pollici quanto costerà il 115 pollici avrà un prezzo al pubblico ovviamente per quello che hai spiegato prima di 23.999 è un prodotto ovviamente unico iconico con caratteristiche altrettanto uniche per cui rispecchia un po il prezzo rispecchia appunto le caratteristiche del prodotto invece per quanto riguarda la serie c85 che si posiziona appena di sotto del top di gamma ma con caratteristiche comunque di alto livello ovviamente ha dei prezzi più accessibili al consumatore finale partiamo da un 4.999 fino ad arrivare a un 5.999 sulla serie del 98 pollici speranze di vedere trovare qualche offerta su questi modelli diciamo abbastanza premium a dire il vero ci sarà ci sarà da divertirsi ci sarà da divertirsi e magari ci sarà da divertirsi da divertirsi ancora di più sulla serie c65 sì ok li partiamo da 43 pollici giusto arriviamo la serie c6 55 parte dal 40 terri fino al 98 pollici con prezzi dell'ordine e già da maggio partiamo da un 499 fino ad arrivare a un prezzo delle su 98 pollici attorno ai 2500 euro ecco invece ho trovato abbastanza interessante almeno da appassionati quali siamo noi la serie c65 pro perché è un prodotto che l'anno scorso nella gamma tcl non c'era ovvero il q led con local dimming in quel caso di che prezzi stiamo parlando partiamo da un 699 sulla a partire dal 55 pollici ci sarà solo 55 65 75 pollici il cui prezzo arriveremo su 75 pollici attorno al 1.299 invece modello probabilmente più aggressivo sarà il modello ultra hd il p75 sbaglio esatto invece che prezzi stiamo parlando partiamo da comunque da prezzi da 399 dal 43 pollici fino a un 75 pollici attorno al 999 ok perfetto grazie è piaciuto questo video continuate a seguirci cliccate sulla campanella per essere aggiornati sulle nostre ultime novità e naturalmente iscrivetevi al canale alla prossima